Ho stelato un elenco di malattie che reagiscono positivamente ad una dieta a base vegetale. Non necessariamente all'intera dieta, ma anche solo ad alcuni dei suoi nutrienti. Tutte le malattie di questa lista possono essere prevenute, fermate e persino debellate anche se sviluppate. Possono essere prevenute, fermate e persino debellate anche se sviluppate. È davvero impressionante perché si tratta di una serie di malattie di cui tutti noi possiamo soffrire nella nostra vita prima o poi e tutte queste reagiscono a questa dieta fermandosi nel loro sviluppo e recedendo molto velocemente. È stupendo! Se qualcuno si ammala, passare a questa dieta può aiutarlo a guarire. è la medicina migliore di tutte. Molti anni fa Ippocrate disse «Lascia che il cibo sia la tua medicina». Insieme a lui lo diceva anche Pitagora. Sapevano quello che dicevano. Nel giro di un paio di settimane gli effetti sono rapidissimi, ampi e profondi e le malattie spariscono.